Maria Elena Caproni Nella 11 ormai non abbiamo fatto questa meravigliosa joint venture creando un nuovo sito internet, il giornale di Barga News, che raggruppa due siti niente male, venendo fuori un prodotto meraviglioso. Meraviglioso perché non solo si occuperà della crona locale, come più o meno abbiamo fatto fino adesso, ma perché avrà delle sezioni davvero innovative, tipo le breaking news che saranno sempre sulla home page aggiornate istantaneamente quando ce ne sarà bisogno, e poi la possibilità di pubblicare interviste praticamente in tempo reale appena realizzate. Queste non sono che due delle cose che forse ci piacciono di più del nuovo sito internet. Nato soprattutto per avere una maggiore interazione con i nostri lettori, per avere anche nuovi più stimoli e poi per creare un luogo, anche se vertale, comunque di scambio proprio con la nostra comunità. Grazie a tutti.